Davide Bin, segreteria sportiva della Provercelli. Il fatto di avere una squadra gloriosa come la Provercelli, ricordiamo che è una delle squadre che ha vinto più scudetti in Italia, è comunque un fatto importante. Grazie per la vostra partecipazione. Provercelli, grazie a voi, grazie all'organizzazione, grazie agli Orizzonti Unite per l'invito. Provercelli ha la seconda edizione, la sua partecipazione, onorata di confrontarsi con realtà importanti sia del territorio a livello direttantistico, che poi subentreranno dopo la prima fase, che a livello professionistico con club molto importanti e anche con realtà straniere. Un torneo che dopo la prima edizione sta avendo un risalto mediatico sempre più importante e anche la qualità delle squadre sta, edizione dopo edizione, crescendo sempre di più. Una vetrina molto importante per una categoria giovanile, gli esordienti secondo anno, 2003-2004, poi le professioniste si alterneranno con varie annate. Comunque, fatto sta che sarà una bellissima vetrina e saranno dei giorni molto intensi dove uno staff collaudato, come quello degli Orizzonti Unite, questo splendida realtà vercellese, che è un po' sul confine, torinese-vercellese, sicuramente darà vetrina e lustro con il proprio impegno a tutta la manifestazione. Quanto è importante per una società gloriosa, ma se vogliamo al momento anche un po' piccola a livello professionistico, come la Proverselli e il settore giovanile? L'importanza del settore giovanile è fondamentale, perché naturalmente, oltre all'aspetto puramente delle categorie dei piccoli, è proprio il credo, proprio la mentalità e lo stampo che la maglia bianca, la gloriosa maglia bianca, riesce a trasferire attraverso il suo passato. E naturalmente, con quello che sta vivendo in questi giorni, la giusta considerazione è nella crescita del proprio vivaio. Noi come attività di settore giovanile, attività al vivaio come pulcini esordienti, abbiamo circa 140 ragazzi, naturalmente sommati poi a tutte le categorie nazionali, abbiamo un settore con 210-220 ragazzi. Naturalmente, dal punto di vista territoriale, per Vercelli e il vercellese, è un punto di riferimento molto importante, dove naturalmente si vuole mettere in risalto la propria terra. Cioè, la maglia della Provercelli, lo stampo, la maglia bianca, è un qualche cosa, Silvio Piola, che è il suo responsabile, il famosissimo Silvio Piola, deve essere un po' uno stampo per tutte le giovani leve che si avvicinano alla maglia bianca. Per parentesi, anche un giocatore germano della Provercelli arriva proprio da Cigliano e ha iniziato dagli orizzonti. Ha iniziato dagli orizzonti, ha iniziato dagli orizzonti con un allenatore che intendo menzionare, Maurizio Bellomo, che ha allenato tantissime squadre nella bassa vercellese da Crescentino a Cigliano, che ogni volta che ci sentiamo mi menziona sempre, l'ho allenato io con questa cosa, perché naturalmente fa piacere avere un giocatore di serie B in una società vercellese proprio figlio del territorio. Dunque, è una cosa molto piacevole e molto importante.